bernarda 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 va cosa scrivono bernarda va 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 cosa scrivono sul giornale cosa ci prova lui chi ci prova il barbetta il barbetta ci proverà lui si dei rossi e ci proverà lui questo qui è il giornale di zazzaroni ci prova lui si ha detto che ci prova lui ma questo qui non è il giornale di colpire il giornale di colpire l'importanza è che hanno questa speranza sperare non nuoce ci prova lui ma questo giornale non è quello di zazzaroni chi è il giornale dello zazzaroni non è il direttore qua zazzaroni ci prova lui il barbetta il barbetta e vabbè ci sono convinti e abbiamo dato la buonanotte a stipirla no no l'abbiamo dato buonanotte oh signor com'è tardi stasera ci prova lui ma che cazzo te ne fai cosa devi ci prova lui ci prova lui barbetta è un barbetta dai buonanotte buonanotte barbetta